Buongiorno da WTV News. Oggi 27 febbraio è San Gabriele, ed è la giornata internazionale dell'orso polare, occasione per celebrare la maestosità di questi magnifici predatori e per riflettere sull'importanza di proteggere il loro fragile abitat artico. Gli orsi polari sono considerati l'icona dell'artico, le loro pellicce bianche e il loro fascino unico li rendono simboli della bellezza selvaggia di questa regione. Inoltre sono cacciatori estremamente abili, eccellenti notatori e possono coprire distanze considerevoli in acqua. Oggi è anche la giornata nazionale del pan cotto e dell'acqua cotta, zuppe povere che prendono diversi nomi e vengono preparate in svariati modi, tutte declinate con i prodotti di ogni territorio d'origine. È la giornata internazionale della fragola e del cacciapuri, vagamente somigliante nella forma a un calzone farcito con salguni, un formaggio giorgiano, uova e altri ingredienti. Trenati in questo giorno abbiamo Litz Taylor 1932 e Mal 1944. Tali scomparsi ricordiamo invece Adriano Olivetti 1960.